Matilda, voglio che tu posi per terra quel sacchetto. Bene. E adesso voglio che tu mi dica tutto quello che sai sulla cucina italiana. E non dimenticare il nome dello chef che mi ha preparato questo piatto. Non mi manda nessuno. Io lavoro per conto mio. Allora è una cosa... personale, giusto? Che... che razza distronzata, schifosa... ho fatto adesso. Hai ucciso mio fratello. No, mi dispiace. E tu vuoi raggiungerlo? No. È sempre la stessa storia. È... È solo quando cominci a temere davvero la morte. Che impari ad apprezzare la vita. A te piace la vita, tesoroccia? Sì. Mela male. Perché io non provo gusto a... a togliere la vita a una persona alla quale non gliene importa nulla.